buongiorno dottoressa salve dottoressa Anna Maria Cimmino è una logopedista io la ringrazio di averci concesso qualche minuto per questa video intervista videoconferenza siamo purtroppo costretti a non incontrarci più ad evitare la prossimità è un momento un po complesso per tutti e di qui nasce proprio l'interesse per capire come può andare avanti un lavoro come il suo che ha bisogno di solito di grande prossimità di grande vicinanza anche all'utente e quindi vorrei prima di tutto che si presentasse lei in maniera tale che ci può dire anche in maniera un pochino più approfondita di cosa si occupa e poi vediamo di capire come si può tramite la tecnologia cercare di superare gli ostacoli che questo maledetto virus ci sta ponendo sì salve grazie per questo invito per questa riflessione fatta insieme sì io sono una logopedista da circa 30 anni sono un counselor che è un esperto della relazione di aiuto e mi occupo di voce dove appunto sono un'esperta di voce clinica e di voce artistica è un periodo veramente faticoso per noi prima di tutto perché ci siamo visti costretti a ridurre la nostra attività per tutti quelli che diciamo la maggior parte dei riabilitatori che appunto operano nelle strutture cliniche autorizzate convenzionate o nei centri clinici privati mentre anche la distanza avere rimanere in una condizione di distanza dal paziente questa per noi è un'esperienza veramente critica il nostro paziente tipo cioè chi è che si rivolge a lei sì allora io appunto dicevo mi occupo di voce per cui da me arrivano pazienti adulti o anche bambini che hanno problemi di voce e sicuramente il contatto quando si parla di voce è fondamentale perché la voce fa parte del corpo e quindi è fondamentale essere in una relazione come dire anche di vicinanza proprio fisica inoltre mi occupo in alcuni casi anche di bambini io lavoro in un ambito privato che gli sms tp dove una società appunto dove ci sono più logopedisti ed altre figure sanitarie che svolgono appunto attività clinica le volevo chiedere questo le attività che voi portate avanti sono attività essenziali che non si possono fermare in questo momento in molti casi magari in altri si potranno rimandare sì nel senso che come per ogni figura noi non facciamo pronto soccorso quindi sicuramente la nostra attività è un'attività essenziale perché riabilitare un paziente che ha è un post chirurgico e quindi ha bisogno di fare una terapia ridurre la frequenza addirittura doverla interrompere perché ci ritroviamo di fronte a un doppio livello cioè se il paziente viene e si ammala di covid perché magari prende il treno oppure incontra altre persone e questo non è pensabile di conseguenza noi stiamo rispettando tutti quelli che sono i decreti le indicazioni che ci sono state ministeriali che ci sono state indicate come si fa è veramente faticoso nel senso che per esempio stiamo utilizzando la riabilitazione a distanza ma anche questa va utilizzata con attenzione con professionalità e sappiamo bene che siamo in un momento di emergenza nel senso che io appunto che dicevo sono anche esperta della comunicazione della relazione mi rendo conto che il paziente utilizza lo spazio della terapia anche come un momento di contatto e di condivisione perché in un momento come detto dove il contatto fisico non è possibile dove il livello emotivo è molto alterato perché ognuno di noi sta facendo esperienza di costrizione non è una scelta quella di rimanere in casa gradevole piacevole ma sappiamo bene che quando le cose ci vengono imposte anche se per ovvi giustificati motivi comunque crea la nostra libertà interiore e al nostro ciclo di vita un cambiamento un adattamento e delle volte i pazienti fanno fatica ad adattarsi quindi da qui il ruolo secondo me dell'operatore sanitario del terapista del riabilitatore è il ruolo della persona che accompagna il proprio paziente non solo dal punto di vista tecnico ma anche emozionale diciamolo importante è vero è una costrizione che ci è imposta ma è importante restare a casa noi dobbiamo il dovere di ricordarlo a tutti io sono a casa e ne approfitto per dirle questo che anche gli ultimi giorni in cui noi eravamo ancora come dire in attivo no in presenza l'esperienza fatta è il conflitto cosa faccio nel momento in cui tocco il paziente contatto fisicamente sono con lui sto rischiando io sta rischiando lui cosa posso trasferire io a lui quindi questa per esempio è l'esperienza che stanno ancora facendo le colleghe che sono negli ospedali e che sono ancora sono a stretto contatto che meritano comunque nostro ringraziamento io veramente ascolto con con affetto con calore e anche con attenzione i loro racconti e sono misti tra la paura l'empatia il desiderio di stare accanto ai pazienti con professionalità ma sentirsi anche in conflitto perché se voglio fare bene dovrei con stare più vicino ma nello stesso tempo il rischio per loro ma cerchiamo adesso di buttare il cuore oltre l'ostacolo come come si dice quindi con la tecnologia che cosa possiamo effettivamente fare riusciamo in qualche modo a restare in al servizio del paziente io credo di sì devo dire che è possibile gli obiettivi sono in alcuni casi non pienamente raggiungibili chiaramente ma parte degli obiettivi parte degli obiettivi possono essere raggiungibili chiaro che io non credo ad una riabilitazione a distanza per sempre credo che in questo momento possiamo raggiungere alcuni degli obiettivi del del trattamento che stiamo già instaurando quindi con il che abbiamo già in atto con il paziente questo assolutamente devo dire io sono anche stupita perché mi sono ritrovata con pazienti magari della fascia appunto dell'infanzia o della preadolescenza dove ero leggermente oppure la terapia proprio in diretta con i genitori dei bambini piccoli e devo dire che sta sortendo dei risultati come stanno reagendo come questa è una bella domanda nel senso che ci sono dei genitori che inizialmente erano resti ma quando hanno visto di prolungarsi del tempo hanno accolto questa proposta perché chiaramente io ho semplicemente proposto e condiviso la mia disponibilità piena ad esserci ma hanno rivisto la posizione e anzi è molto bello vedere i genitori che si attivano fanno video lavorano con i bambini e poi in supervisione andiamo a rimodulare alle attività e possiamo procedere e vedere dei cambiamenti della settimana in settimana mi scusi te la interrompo questa questa condizione di prossimità assoluta che è straordinaria perché ovviamente è raro che un genitore trascorra così tanto tempo con i propri figli per ragioni ovvie per la necessità di lavorare di portare avanti tutte le attività ma questo almeno potrebbe essere un vantaggio in termini della riabilitazione per immagino fasce più più giovani di bambini di possono giovarsi di questa vicinanza con i genitori assolutamente la vicinanza con i genitori è un aspetto fondamentale nella terapia già nella terapia diretta quando i pazienti vengono in ambulatorio noi chiediamo sempre ai genitori una presenza chiaramente questa condizione ha permesso di amplificare l'utilità l'importanza il significato il valore che ha la presenza di un genitore in relazione col bambino sappiamo bene che il nostro lavoro è importante ma noi vediamo i pazienti una o due volte a settimana ma teoricamente i genitori a questi genitori c'è qualcosa che possono fare per ottimizzare questo tempo trascorso insieme sì sicuramente imparare come dire a stare di più in contatto loro che possono in contatto fisico e visivo di gioco soprattutto con il proprio bambino e se sono bambini che sono in terapia come dire accogliete come le indicazioni dei colleghi perché i genitori che li hanno accolti sicuramente stanno trovando dei benefici c'è un gruppo di genitori che è resistente alla tecnologia così anche come nel nostro studio ci sono psicoterapeuti che continuano a fare attività terapeutica via skype e vediamo che funziona il colloquio anche psicoterapico via skype o psicologico perché comunque si riesce se c'è un minimo di relazione a creare una vicinanza emotiva di relazione di contatto e questo è molto importante soprattutto in questo momento ritiene che di voler lanciare un messaggio anche alle istituzioni rispetto a qualcosa che potrebbero fare di più o di diverso per agevolare magari la fase 2 quando saremo di nuovo portati ad essere a contatto ma mi verrebbe dire che la prima fase è stata molto centrata sulla paura su una comunicazione centrata su dobbiamo avere paura e messa anche dire che forse è dettata dal fatto che ci siamo mossi su una linea molto stretta nella quale non c'era un margine di tolleranza quindi o si camminava la corda o si precipitava nel baratro assolutamente sì sì io mi come dire mi occupavo dell'aspetto emotivo perché quello che accadrà è ho paura di incontrare le persone ho paura di dare mano ad una persona avrò paura di e questo è un aspetto molto importante c'è tanta gente che in questo periodo anche genitori o persone pazienti adulti e sego che fanno fatica a dormire quindi ansia che sta bene molto pazzo no nella quindi sicuramente in questa seconda fase cosa potremmo dire di mantenere le cautele che ci verranno richieste che ci verranno indicate ma nello stesso tempo cominciare a sentire che l'altro è di fronte a noi e quindi possiamo anche sentirlo vicino anche se non lo tocchiamo le volevo chiedere un'altra cosa per la peculiarità del suo lavoro forse l'adozione di dispositivi di protezione individuale è complessa nel momento in cui bisogna portare avanti una terapia o sbaglio assolutamente bisogna sicuramente avere la mascherina avere i guanti questo inizialmente veramente per me è stato molto antipatico e devo dire ero anche molto preoccupata dell'impatto invece deve essere sincera poi gli altri pazienti stessi sentivano questo come un aspetto di protezione di tutela e di rispetto nei loro confronti e d'altro canto le hanno usate anche loro quindi certo non è proprio così portare avanti una mascherina ci stiamo indorando la pillola non ho capito dicevo è possibile portare avanti una terapia di questo tipo indossando una mascherina e dipende dal tipo di terapia se sicuramente devo lavorare sulla voce la mascherina non la posso usare anche se noi per esempio usiamo dei sistemi di mascherine per migliorare la cavità come dire la voce potenziare il suono arricchi questo sarà un problema da da gestire vediamo e sono certa che noi abbiamo delle risorse e delle capacità creative e di resilienza per cui sono certo che troveremo nuove modalità di attuazione approfittando della sua esperienza in termini appunto di conoscenza delle relazioni interpersonali io le volevo chiedere se secondo lei questa questa separazione forzata che stiamo vivendo non ci stia facendo in qualche modo riscoprire anche la bellezza del contatto diretto perché viviamo adesso in costante comunicazione videoconferenza social e quant'altro ma mai come ora desideriamo il contatto diretto che è quello dal quale invece scappiamo normalmente sì sì diciamo che non tutti scappano normalmente però come ogni esperienza quando ci viene negata la ricerchiamo maggiormente al fatto che si vede spesso ad esempio coppie di giovani seduti a un tavolino che però fissano un cellulare certo assolutamente sì io credo che questo tipo di esperienza abbia anche migliorato delle relazioni così come abbia permesso delle relazioni togliendo come dire quello che il contatto con con l'altro quel dal vicino di casa al collega di lavoro alla persona al bar ci abbia inevitabilmente che già in una famiglia in una relazione ha permesso di affinare delle relazioni certo è anche un momento critico perché magari delle relazioni possono anche rompersi dopo questo tipo di esperienza ma come ogni esperienza dobbiamo prendere il buono e speriamo di apprendere speriamo di apprendere da questa io sono fiduciosa ma speriamo di apprendere da questa come dire costrizione di relazione a distanza per per come dire a un care invece il contatto umano io la ringrazio e diciamo spero naturalmente che si possa tornare molto molto presto ad una vita normale diciamo alla vita alla quale siamo tutti abituati spero anche che ci sia occasione poi di incontrarci anche via telematica via skype videoconferenza per poter analizzare ulteriori problemi insomma legate al mondo della comunicazione della logopedia in questo caso e poter dare qualche consiglio utile a chi ci guarda certo grazie io sono sempre disponibile quando possiamo diffondere qualche aspetto positivo per tutti ben venga e auguri per tutti e mi raccomando restiamo a casa restiamo a casa assolutamente